allora vediamo di fare il punto sulle rotte percorse questa sera insieme allora tentiamo al solito un discorso di sintesi il punto io credo è che il bel conflitto nelle galassie interiori sia l'appartenenza mi spiego il bisogno di sentirsi parte si scontra con il bisogno di non appartenere la centratura è sacra uomini e donne in equilibrio non si identificano neanche con loro stessi quando è chiaro che generalmente e più spesso persino noi stessi non siamo che una parte di noi camminare in equilibrio significa non sbilanciarsi da nessuna parte del resto l'ignoto ci affascina ed il fascino ci seduce la seduzione ci conquista la conquista ci possiede il possedere ci illude e l'illusione ci delude la delusione ci insegna e l'insegnamento ci arricchisce la ricchezza non ci appartiene e la non appartenenza ci identifica e l'identità l'identità ci è ignota ma non eravamo partiti dicendo che l'ignoto ci affascina grazie Claudio ciao Claudio Rocchi grazie abbiamo trasmesso Radio Starship musiche e persone sulla nave delle stelle grazie